E o meglio si tratta di Xavi Simons o Simons, il nome della persona che va all'Ipsia. Dunque Xavi Simons o Simons infatti è ufficialmente parlando un nuovo giocatore di questo club calcistico. L'uomo di nazionalità olandese arriva dunque in Bundesliga in prestito secco dal PSG, ossia dal Paris Saint-Germain. Ed è comunque un ottimo giocatore stando a quello che vi portavo sul web, Xavi Simons si distingue anche perché ha una grande capacità. E' un giocatore polietrico, completo, eclettrico, che non passa di certo che l'ho osservato, che arriva all'Ipsia partendo dal PSG al Paris Saint-Germain. Quindi è in tutti effetti un giocatore dell'Ipsia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di Youtube. Iscrivetevi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. E' un buon acquisto a mio avviso, mio punto di vista, mia opinione, sia ben chiaro. Ciao a tutti.